Questa mattina siamo venuti in Basilica per vedere l'inizio dei lavori per l'allestimento della grande mostra che partirà l'11 dicembre da Vicenza. La grande mostra è la fabbrica del rinascimento nella bellissima Basilica Palladiana dove l'allestimento sponsorizzato con un art bonus da Serial Docs ci permetterà di riaprire il cubo e donare alla città i nostri bellissimi quadri, le sculture, creare un percorso nella storia rinascimentale di Vicenza del Cinquecento e quindi un buon lavoro ai tecnici, alla squadra per l'allestimento che poi vedrà la bellissima mostra iniziare tra pochi giorni, quindi dall'11 dicembre.